Mariana Falace contro Lucia Bramieri. Volano insulti pesanti e offese nella casa del Grande Fratello. Tra Mariana Falace e Lucia Bramieri sembrano un correre buon sangue a Grande Fratello. . In diverse occasioni, infatti, entrambe hanno palesato agli altri concorrenti rimasti nella casa di non sopportarsi a vicenda, e questo, probabilmente, è proprio il motivo. Che ha spinto Mariana a scagliarsi contro Lucia oggi? La concorrente, nello specifico, rivolgendosi ad Alessia Prete, sua amica nella casa, si è lasciata andare in pesanti offese nei confronti della Bramieri che, se solo lo sapesse, di certo non le prenderebbe bene queste esternazioni. Mariana Falace al GF 15. Lucia Bramieri. È una vecchia individuosa.Esclamativo.L.E. Parole usare da Mariana Falace nei confronti di Lucia Bramieri oggi non sono per niente state lusinghiere. . La Geffina, come mostrato oggi al Daytime, parlando della nuora del grande Gino Bramieri ha infatti detto.Nun la sopporto, è una vecchia individuosa, che cavolo è venuta a fare qua? . Parlando con Alessia Prete, poi, ha anche rincarato la dose etichettando Lucia come una persona brutta dentro e fuori. . Lei non ha quello che ho io ha detto nello specifico Mariana la bruttezza in confronto a tanta bellezza. . Mariana Falace e Alberto Mezzetti sempre più vicini a Grande Fratello. Dopo il bacio scoppia la passione tra i due. . Alberto Mezzetti e Mariana Falace potrebbero essere la prossima coppia del Grande Fratello di questa edizione. . Dopo Lucia Orlando e Filippo Contri, Favoloso e Patrizia Bonetti e Alessia Prete e Matteo Gentili adesso sono stati loro a farsi travolgere dalla passione all'interno del reality. . Quello che sembrava infatti un bacio dato per scherzo si è poi trasformato in uno scambio di effusioni vere e proprie tra i due. . Forse prima di poterli considerare dei veri e propri fidanzati dovrà passare ancora del tempo, ma, intanto, le premesse ad oggi sembrano buone. . 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